Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Oggi torniamo a lavorare su questo trapano che come vedete è stato totalmente smontato. Dunque, qua cosa è successo? Ieri, come avete visto su Instagram, se non mi seguite andate a seguirmi qua, è venuto questo ragazzo amico di Giacco che si intende molto di macchinari e abbiamo smontato completamente e in due siamo riusciti a smontare tutta questa frizione che mi avete detto. Ora, il problema era dentro questo alberello che girava. Sostanzialmente questo ingranaggio qui, che si avrebbe dovuto andare avanti e indietro quando si muoveva la levetta e ingaggiare la frizione che è questa qui, era rotto. In poche parole abbiamo capito che non funzionava perché? Perché se era rotto qualcosa o c'era una molla differente e quindi per sistemarlo, per utilizzarlo come un trapano a colonna normale, diciamo, hanno bucato quell'ingranaggio lì, messo delle spine, delle robe veramente brutte. Ieri sera sono stato nel laboratorio di questo ragazzo dove c'è un bridge board bellissimo, ce l'ha saldato TIG, rettificato al tornio, sistemato quell'altra parte, fatto un paio di filetti, un lavoro veramente doc. Il buco che c'era prima... Era qua da qualche parte, qua dove c'è un po' di segno. Completamente sparito. Eh sì, c'è un po' di segno. Grazie mille per l'aiuto. Oggi quindi che cosa dovrò fare? Dovrò ricordarmi più o meno come sono stati smontati tutti quei pezzi lì e rimontarli in modo che funzioni. Quindi senza troppo indugio, partiamo. Prima di mettere quello bisogna rimettere questo. Perfetto. Ok, ok, è ok. E fin qua, arrivati da questo lato. Perfetto. Aia! Ok. Ah, vedi che... Ok. Ok, qui ci va questo sopra e questo qui. Questo dovrebbe andare lì. Uno, due, tre. Sopra questo ci va questo qui. Dopo la rondella. Perfetto. E questo... Ok, arrivati a questo punto, bisogna rimontare tutto il gruppo qui della frizione. Per farlo c'è questo che è il pezzo che è stato aggiustato, che va inserito qui. Questo qui praticamente sarebbe quel cosino che prima era bloccato e con la leva io a destra e sinistra mi fa tac, da così passa così, abilita e disabilita questa frizione. Dietro c'è una molla che la rispinge, perfetto. Quindi, abbiamo questo che va sopra, va buttato. Il seiger in questione è questo qui. Proviamo. Oh! Non si muove più. Questa qui è la vera e propria frizione, che ha praticamente una molla che scorre tutto all'interno qui. Dentro qua ha questi, chiamiamoli pistoncini, che mandano su e giù questo piccolo pezzo dentato. Questo pezzo dentato va ad aggrapparsi a questi dentini, quindi da qui si vede questo, tac, e va in su. Per andare in su, lo fa questa leva che è infilata qua dentro. Praticamente qua dove c'è il vuoto, andando avanti e indietro, manda su e giù tre sfere che si trovano qua. Quindi facendo avanti e indietro, queste sfere fanno, tac, e ingaggiano questo altro meccanismo, che è la nostra ruota. Questo va infilato qui. Perfetto. Steremo bene a vedere come riesco a mettere queste sfere io qua dentro. Mi sembra un orecchio complicato. Eh sì, bisogna fare così. Quindi prima le sferette. Uno, due, tre. Questa l'ho messa qui. E' infilata. Oh, il primo colpo. Ah, perfetta. E di conseguenza... No! Ok, questa qui. Oh, è andato? Oh, è andato? Guarda! Oh, è esattamente così. Guarda, è stato tutto montato. Guardate bene qua, quando si ingaggia. Vedete queste qua che vengono fuori? C'è anche di qui. E quelli lì, piccoli, così, ingaggiano il meccanismo. Non ci credo che... Sembra che stia andando tutto liscio, porca miseria. E la roba che mi sconvolge di più è il fatto che... Che mi ricordo dove vanno le cose. Beh, il passaggio adesso è questo. Che va messo qui. Questo passa qui. Questo passa qua. Ok, l'ultima cosa è questo. 1, 2 e 3. Ok, c'è un seger piccolo che so che va lì. Dovrebbe essere questo. Qui c'è un seger che va lì. Ma questo seger grande qua. Da dove è stato tolto? Ah, forse di là. Era dall'altra parte dove c'è il cuscinetto. Devo rismontare tutto di là. Seger qui. Qua. Ma qui io ci faccio fare. Ok. E questa. Tirando la brugolina noi andiamo a bloccarlo definitivamente. Ma aveva detto qualcosa ieri Stefano? Non posso né scendere né salire. Forse per filettare. Per filemare. Per filettare. Vuoi filettare? Puoi filettare. Hai filettato? Che ho detto prima, Gabri, è stato che mi ricordavo tutto dove andava. Sicuramente che adesso ho avanzato questo seger. E quindi dovrò rismontare tutto questo. È grosso per andare qua. Sì, sì. E dove andava? Andava di qui. Dopo che hai messo il cuscinetto, che c'è l'albero grosso. Ah ah. Ho messo lì che teneva il cuscinetto. E quindi devo rismontare tutto questo. È certo. È normale. Questa è il nostro amico seger. Ah. Qua la spina. Ci mettiamo una molla. andiamo a metterci qua in sto pallino. 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 Se ingaggio questa, lui va giù da solo, oppure tolgo questo, tolgo questo, metto questo, posso andare giù, così. Ottimo, tutto è stato rimontato, mi manca solo da mettere l'olio qua dentro alla fine, però siamo riusciti a far andare anche questa manopola qui, con tutto, adesso mettiamolo subito al lavoro, su questo nuovo progetto che sta facendo, è un mega dissipatore, un mega dissipatore dove andremo a montare un sacco di led. Adesso Gabriele hai due velocità, qui a sinistra, vai piano, se vuoi puoi scendere a mano, Ci andiamo a mano, ci andiamo a mano, che ora facciamo il test, il miscio è come l'olio, com'è? Perfetto, non si sente neanche che va giù, preciso, lineare, minimo sforzo, ottimo lavoro. Cioè va, sta andando da solo. Non lo so, non lo devi sgaggiare tu poi. Ah, perché hai due mani? Non lo voglio mollare, non è piussato, lo chiamo. Eh, dimmi, è buono, è buono. Non direi buono. Basta. Ok, quello che manca adesso è metterci un po' di olio, mi sono fatto un imbutino con una bottiglia. Oh no! Sto facendo un fottuto danno. Per quanto riguarda la seconda vaschetta, ci si arriva da qua. Questa, alla fine dei conti, quasi due litri. Olio ho messo, rabboccato fino qui, rabboccato fino qua. Per cui, vi posso far vedere, muovendo questa manetta, il meccanismo che viene ingaggiato. Questo qui è il meccanismo per la discesa. La, la, la manopola è ferma. Tiro. E questa, pian piano, si sta muovendo e va giù. Tra l'altro, ho sistemato questo giro. Non pensavo di fare un episodio due di questo piccolo restauro, ma vi è piaciuto così tanto prima di tutto. E in più, io ero molto curioso e avevo troppa voglia di sistemarlo bene. L'aspetto è uguale a prima, solo che funziona in tutto. Mi avete scritto in tanti, poi, che non conosco la Felissati o che non conoscevo perché sono giovane. Benissimo, ora la conosco, è perfetta, infatti. E che c'è un'altra marca che è la Olivetti. Quindi vi faccio vedere questo. Questo altro pezzone, addirittura la targhetta del rappresentante. Questo qui è un trappolo da banco piccolino della Olivetti. È un po' particolare perché qua dietro ha questa leva che ha una pompa che fa andare su e giù il trapano. Ok? Invece di avere il piano che si alza e si abbassa, ha questa pompa che va su e giù, su e giù. Quindi prima di salutarvi, faccio proprio come i veri youtuber, se questa serie qua del restauro di macchine vecchie vi piace, lasciatemi un bel like e se arriviamo almeno a 500 like con questo episodio qui, mi metto al lavoro su quell'altro trapano e vi porto un contenuto anche su quello. Detto questo, io non ho nient'altro da dirvi, vi ringrazio sempre a tutti per il supporto, grazie mille per tutti i commenti e i consigli che mi continuate a dare e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.